Intanto non ci rivelerà niente Alberto Viglino, ingegnere Tony Card che ci deve spiegare che cosa fate di particolare quando vi momentete con dei card della competizione il top che c'è sul pianeta a correre in un parcheggio come questo Raccontami a cosa vi attaccate? A cosa ci attacchiamo? Io rimarrei nel lecito di tutto ciò che si può dire Rimaniamo nel lecito, no, niente, si cerca di adatterare un po' più di grip Dove è andata a lavorare? Anche per i domenicali? Per i domenicali si cerca di fare un assetto più vicino a un assetto da bagnato piuttosto che da un assetto a pista normale però la pista adesso si è gommata bene, la gomma non è in scesa quindi diciamo che andiamo abbastanza a standard Un motore qui quanto conta? Tanto Tanto, nonostante tutto tanto? Sì Avrei detto perché comunque Conta tanto anche perché comunque quando sei in difficoltà su una pista scivolosa e tutto quanto Anche se poi in realtà mettere giù cavalli qui non è così semplice forse? No, però Sul dritto? Sì, ma più che altro più che sul dritto avendo tanto margine puoi giocare anche tanto per rapporti qui ti viene incontrato anche quello Ascoltate Grazie 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 Grazie